Musica Ciao ragazzi come ragazze di questo nuovo video di minecraft Ci troviamo oggi finalmente su di skywars in compagnia del buon tirolo Ciao scalini Ragazzi oggi cede una cosa davvero molto importante per l'umanità Tutta l'america ragazzi è rimasta sconvolta da questa notizia Perché se ne stanno tutti quanti sbattendo il cazzo delle votazioni di Trump e della Clinton Ma hanno tutti appreso la notizia che la testa da pollo deve sparire Tutto ciò per colpa del buon Tirlos Ma io ho già la soluzione ragazzi Perché dopo mesi e mesi e mesi di pollo Cambio ragazzi testa e metterò Testa di Pikachu Mi aspettavo qualcosa di più trash Vediamo cosa ho di più trash però Vediamo un attimino Allora la più trash Ciao Ciao proprio Raga sono un melone Guardate il melone Fermi tutti La quella più trash che ho io è questa Lender Però ci sta Non è malaccio dai È uscena Ci sta ci sta Beh comunque ragazzi stanno direttamente in partita Bella Allora buon Tirlos come sta Un freddolito però sto bene Quando è che vogliamo accendere gli scaldamenti in quella casa? Non posso perché sennò inizia a fumare il termosifone al piano di sopra Hashtag termosifone fumante Tutto mi stai fottendo Allora ti fotto tutto quanto il resto qua dietro Fermi Fermi Eeeh Chiamo il 118 io però eh Chiamo prima Masa che chiama il 118 per me Rimetti conto Perché non ce la fai da solo Esatto No perché ha paura ed è 118 frate No Sai che la classica fobia da 118 Sì la 118 fobia Oh mio dio quanta roba ho trovato Io ho dovuto rompere un blocco di legno per poter salire all'isolazione E devo picchiare le persone con un piccone però Quindi non so quanto la cosa sia utile E nello stesso tempo Beh se vuoi ti do una spada carina Grazie bomber Sì Sono sopra di te Dove è sopra? Ah sei sopra di me Vieni Cosa vuoi diamante o ferro? Eeeh diamante e ferro Te la prendi te in diamante Trovate Non lo devi dire in diamante stronzo No Così me lo vuoi dire Ah Ah Grazie Però mi devo mettere al posto anche col cibario Ma ce l'ho già in diamante io bomber Col cibario e il ciboro e il cidrogeno Eeeh no il cidrogeno l'ha finito Ah ok Allora facciamo una cosa ignorante Bravo Pontifica Però tipo devi pontificare tipo a vertebra di morfetta Quattro No ci sta Fai un po' il zoccolo di gnu Bravo Ottimo Bravo Poi metti un bloc Bravo No Ottimo Ok No No così è una bardatura a pene Eeeh la famosa bardatura a pene Sì ci sta Aspetta vado a prendere dei blocchi anch'io bomber Poi ti faccio vedere un po' come si barda a vertebra di morfetta Allora in pratica tu prendi un po' di cobblestone Poi tipo qua metti un coso del genere Poi te ne esci di Che laggato ha tirato Sì ha laggato server Madonna mia frate mi sono ritrovato in Irlanda Allora Ciao zii benvenuto Ah tu sei Come che sei morto cadendo Cosa è successo Esigo delle spiegazioni Sono imploso Cosa cazzo è successo Non lo so No no voglio delle spiegazioni Minecraft spiega Tirlo se la faremo a giocare o voglio esplodere anche adesso Permetti Ma come cazzo permetti Ma è che chiamo il 117 L'hai visto l'ultimo video che ho uscito Madonna quello di kissy Che tipo dice a uno Che dice alle persone di non dire le parolacce Tipo uno se ne esce dicendo Vatti a fare una sega Sì sì ma non dire le parolacce Quella donna lì è un'istituzione nazionale Putato a vita la metterei guarda Vabbè piuttosto che altre persone ogni tanto Sinceramente Comunque Io sono andato nell'isola accanto perché era vuota Ah io sto prendendo tutta la gente Ah ma tutte le isole alla nostra destra sono vuote Raffa tutta raffa tutta raffa tutta raffa tutta al volo Intanto io sto mettendo l'armatura quella fatta decentemente Anche sono trovato una merda Insomma Insomma Cà poi ci mettiamo questa roba cà E poi qua E poi qua Ok Un po' troppo aggressivo Andrea Ti ho spaventato? Sì un po' Ti ho emozionato? Quella è solo la tua voce mi emoziona Ah che cucciolo di tirlo Marco ho fame Grande uomo Quando vuoi mangiare Faccio uno squillo Eh ora Ah ok Dream dream Non do Ma è affatto un po' di roba Signora Non te l'ho mai raccontata l'anedito di signora No c'è un bomber qua c'è un bomber qua c'è un bomber qua Arrivo arrivo I need your help Lo so vedo Thank you man Ma sto bomberissimo Bravo grazie per il muffo tutto anche io Bravo no complimenti Non è che mi hai salvato la vita no Tieni Ti ho salvato la vita Arrivando un bomber La vedo Bravo Bravo E anche dietro guarda Sì sì Grazie Aspetta che devo droppare giù qualcosa Via vado Andiamo Vai Uno non se l'aspettava Uno sta scappando Volevi boh spammarmi giù Fio di troia Che non sei altro eh Comunque dopo ti racconto l'anedito di Rosaria Eh grazie Rosaria Muniz No no Rosaria Quanto è imploso Mi droppi giù Eh grazie Dimmi bomber comunque Allora ti racconto questo aneddoto Un giorno A un certo punto Della giornata Ero appena c'è la scuola Mi arriva una chiamata Da un numero sconosciuto Ok Vabbò E fin qui E ne è che dici Se non un numero sconosciuto Bravo Tipo un numero Che a pari Non l'avevo mai visto Prima Aspetta Oh Ciao bomber Ciao bomber Ti è esploso il compagno Oh Oh Stai avendo un bomber E l'ho visto Allora vado giù dall'altro E tu tieni quello Va bene Mentre racconto la storia di Rosaria Vai Allora Siamo multitasking In pratica Un giorno Tornando da scuola Ucciso l'altro Come stavo dicendo Bravo Tornando da scuola A un certo punto Mi arriva una chiamata Da questo numero Che non avevo mai visto Allora Allora io rispondo E faccio Pronto Chi parla Pronto Rosaria Guardi signora Che non mi chiamo Rosaria Mi sa che ha sbagliato il numero No no ma Scusa scusa Grazie Rivederci Proprio Così Pronto Del sud Cattiva Proprio col Prondo Rosaria Ciao Rosaria Prondo Intanto stiamo combattendo Conto sto qua Che è invincibile Lo vedo Cadi Un altro Sì A un certo punto Boom Cioè mette giù Mette giù Passano 20 secondi Mi arrivo un'altra chiamata Dallo stesso numero Eh Rispondo Pronto Rosaria Signora guardi Sono la persona di prima Non sono Rosaria Dovevi sbagliato il numero Ah scusa di nuovo Ah Pronto Sono Passano altri 5 minuti Ti richiama Che bomberissima È mia È mia sta kill Di chi è la kill? Passano altri 5 Ah così Ah che finita Cioè intanto tu non ti sei accorto Ma noi abbiamo disintegrato tutti i team Ho visto Ho visto Cioè Vabbè Facciamo un'altra Facciamo un'altra Editear dicevi Allora Passano altri 5 minuti dopo la seconda chiamata Ok E ne arriva un'altra Però a quel momento stavo pensando che potesse essere mia mamma perché ero un po' in ritardo Ci sta Di solito tornavo a casa intorno alle E invece 2 meno un quarto Allora tipo senza neanche guardare chi fosse Prendo e rispondo Pronto 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 Signora 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 Sono sempre io Non sono Rosaria No no Tu sei Rosaria Questa è l'ora di Rosaria No signora Guardi Le assicuro che non sono Rosaria Che gag E dopo mi hai richiamato ancora No Mi hai richiamato un'altra volta Ma tipo due giorni dopo Minch Che gag Save Rosaria nei commenti Ah sta grosaria Rosaria però Rosaria Con la H Che ignoranza Tu hai trovato qualcosa di serio? Ho una pettolina in ferro per te se vuoi No io c'ho già quelle robe Però magari io intendo tipo spade e robe del genere Io c'ho una spada in diamante E una ascia in legno con sharpness Ah io ho una spada con sharpness 2 Quella del kit Pontifichiamo? Ma io devo esplodere anche ora Però cioè Sai come ho fatto Volendo Allora Fai mettere un pochino bene l'inventario Grazie per avermi bardato Prego amore Cioè non è che mi sto arrabbiando Ti chiedo Non mi sto arrabbiando per un cazzo Ah beh Qua c'è Qua c'è una chest Con niente Niente Ci ammortiamo Andiamo dei bomber là Tanto Tanto sti cazzi Ne siamo più forti Esatto Sti cazzi Perché non si esploda Arrega 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 Buongiorno Buonasera Si salta? Si jumpa? Arrega Buon jumpscare E bomber? Siamo qua da te Ciao No non cadere No non cadere Non devi cadere Ma sei un coglione Che sei caduto Si è buttato giù Era il suo compagno Qua dietro Il bomber bomber Andiamo anche dall'altro bomber Mi combatte con l'altro Guarda che se ne trovo due Adesso alle spalle L'improvviso Ops No Tirala su Tirala su Tirala su Ok prima che si bucci le cose Esatto No 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 Uuuu Come salva il drop Ho salvato delle mele d'oro io Io ho salvato i gambali Tutto Tieni qua uomo Ehi Tieni qui Ehi A me non dici Ehi Ma i gambali ce li ho già Ah Ehi vabbè Cioè tieni la pettorina Ce l'hai già No Che è posta Che è il bomber Ma come cazzo ti permetti Mi chiamo Kissi adesso Andrei Minchia mi ha fatto cagare in mano No Oh mio dio Che tecnica Mi ha fatto il blocco di legno Sei salvata come? Ah con la lava Che ignoranza Aspetta vado io? Rip Volevo andare tu Ma Ma che cazzo? E niente E vabbè Ma lui Lui non curante del knockback Che è una legge fisica Stava laggando comunque Dici? Sì 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 Sennò si sarebbe morto Sì 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 Probabile Adesso implode pure lui Perché era fermo immobile Non è che stesse Ciro immobile sul fondo Ciro Devo cadere nel nulla È quello che è appena morto Ok Adoro 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 Ah io ho appena buttato nel nulla Oh stanno salendo quelli là Che sono le ciasse fighe su Ok Non mi permettono Andiamo 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 Run 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 Marco Marco non il metto in diamante per te Dove 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 mamma Oh mio dio quanta roba Questa è un botte di spalle in diamante Uomo prendile Non ti shotta non ti shotta Non ti shotta non ti shotta Prendile spalle in diamante Ce li hai Non mi servono Andiamo dei bomberissimi là Tieni Marco 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 fermati Vai Thank you man Thank you man Safari Human Safari Proprio lui Thank you man Safari Cosa sta ci sta ci sta No sono fake Ah ok figo Però 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 C'è un però In tutto ciò C'è un grandissimo però Un grandissimo dilemma Però c'è un però Allora Bisogna pillarare Uh Marco Occhio Sei caduto? Sì Avevano almeno un po' di punch Quindi occhio Ok Ma io sono più bello Quindi Non pensavo a essere così tanto punch Perché mi ha buttato Ah no Non aveva un punch Era il controcorpo normale Puoi farcela Marco Però io chiudo in te Sono entrambi tre quarti di diamante Con i pantaloncini in chain made Intanto insomma Di Rilevante Penso Ok Loro non sanno dove sia però eh Li vedo un po' disorientati Ok C'ho tre blocchi di clay Salgo Stai spaccando? Ma sei entrato Aspetta ce ne ho una Sopra di me Adesso spacco Però per spaccare Devi entrare prima Ce l'ho qua Aspetta Poi devi uscire E poi ciao Entro Spacco Esco Boom Non mi hai visto Non mi hai visto Sto arrivando occhio che ho un osso pazzesco Ok Calma scendo 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 Adesso muore per tanto da cammino Anni di tecniche Ce n'hai uno dietro Ce n'hai due dietro Marco Dove? Eh All'altra sinistra Ok calma Dimmi quanto sono lontani Laggata Ok Dove mettermi Sono diametramente opposti adesso Ok perfetto No uno sta arrivando da Ecco Non ho preso la lava Ok Uno l'ha presa Uno l'ha presa Bravo Bravo Marco Ok perfetto Calma un attimo Si sta impicchiando la vicenda Ok sono là di nuovo Buono Picchiali bene Stanno spacciccando entrambi Allora Bravo Marco Calma Grande Occhio che l'acqua Che non te la lasciughi Ok perfetto Ok Ok perfetto No devo solo mangiare Calma un attimo Allora Poi salgo Eh la madonna Con quale Knockback me lo vuoi dire Frate Al massimo Shotalo via Dietro 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 Eh bomber ce li ho tutti addosso Bomber ce li ho tutti addosso Marco io credo in te Ma loro due sono contro Eh no sono insieme Bravo Stavo con i blocchi Non so se lì con cazzo Ok ho mangiato ce l'ho fatta ce l'ho fatta Buono No non è andato Oh Marco No Con quali peli Oh si l'hai ripreso Bravo Ok calma E prova a scappare Mamma mia Ok buchi Ok 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 le frecciate Ok si 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 C'è uno sull'isola Alla sinistra che freccia Ok madonna mia Che fuga No 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 Stavo vedendo l'inventario Niente 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 Sono un coglione Sparabam bam 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 Stacatam Quindi ragazzi Mi raccomando iscriviti a casa Guardate la foto E non lo sembra che è tutto bella Dando i otto Che cazzo